Allora adesso diamo la parola alla dottoressa Maristella Marchetti che ci intratterrà con una interessantissima relazione dall'esperienza clinica su nutrizione nutraceutica dal punto di vista epigenetico. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io tutti i coordinatori che mi hanno invitato e anche Giorgio Terziani per questa bella possibilità di parlare di fronte a voi. Data l'ora e le grandi informazioni che ci sono già state date, cercherò di essere il più veloce possibile in modo tale poi di accedere al buffet. Partendo dalla scoperta di Watson e Crick dove comunque negli anni 50 ci avevano detto che nell'elica di DNA c'era scritto tutto il nostro destino, siamo arrivati ad oggi dove comunque il dogma della biologia molecolare ci dice che il flusso di informazioni viaggia in una sola direzione dal DNA verso le proteine senza possibilità di tornare indietro, con un percorso comunque inverso. Ad oggi, proprio anche grazie alle relazioni di Carlos, sappiamo non essere vero, quindi sappiamo che c'è sì una informazione genetica nel quale il nostro DNA comunica verso l'esterno, ma anche che le condizioni esterne, quindi l'ambiente, il nostro stile di vita, la nutrizione, possono incidere fortemente in quello che andiamo a sviluppare, nei geni che andiamo ad esprimere. E l'epigenetica, come ci hanno appena comunque descritto, ci permette di controllare questa espressione e di avere un set di istruzione con il quale possiamo silenziare o non il nostro gene, a seconda della condizione che stiamo comunque vivendo. È come un direttore d'orchestra che comunque va a selezionare il tipo di strumento da utilizzare e indica anche per quanto tempo e quando deve comunque suonare, al fine di migliorare la condizione fisiologica. Il DNA quindi non è più come una spada di Damocle che ci dice quali sono le nostre predisposizioni e che si avvereranno al 100%, ma deve essere la base sul quale noi andiamo a strutturare il nostro benessere e la nostra prevenzione. Come ha accennato adesso Carlos, l'alimentazione, per scendere nel campo in cui lavoro, che è la nutrizione, sappiamo essere così determinante, tanto da influenzare anche l'espressione in maniera comunque permanente di quei geni, di quel bambino che cresce dentro la pancia della mamma e che andrà appunto ad influenzare altre tre generazioni e questo ci permette, se siamo bravi a selezionare l'impatto nutrizionale, di ridurre il carico delle malattie croniche e le problematiche metaboliche che ad oggi sappiamo essere coinvolti sempre di più delle fasce di età giovanili. L'esempio che era stato accennato da uno dei primi relatori sulle api ci determina quanto la nutrizione, ci fa capire quanto la nutrizione sia importante perché il DNA delle api all'interno di uno stesso alveolare è lo stesso, soltanto che le api operaie vengono nutrite con la pappa reale per tre giorni mentre l'ape regina viene comunque alimentata con la pappa reale fino all'età adulta. Questo comporterà che le api operaie svilupperanno una dimensione ridotta, saranno sterili e avranno una vita di qualche settimana mentre l'ape regina svilupperà un 50% in più di dimensione, avrà una vita più lunga di qualche anno e soprattutto in una giornata di sole riuscirà comunque a depositare ben 200 uova. Quindi questo ci fa capire quanto la nutrizione diversificata possa indurre un'espressione genica determinante alla nostra prevenzione. Così è stato dimostrato anche in un periodo di carestia nella seconda guerra mondiale in dei paesi dell'Olanda dove i bambini erano nati sotto peso e quindi con una sottodisponibilità cellulare che li predisponeva a delle malattie cardiovascolari, anche pancreatiche e metaboliche importanti. Non soltanto questi bambini in età adulta hanno manifestato tale patologie ma soprattutto i loro figli hanno manifestato delle malattie metaboliche importanti. Il sistema S-Drive nel campo della nutrizione ci permette proprio di scegliere ad personam lo stile nutrizionale andando comunque a valorizzare quegli alimenti che in quel determinato momento il soggetto ne ha più bisogno andando a limitare quegli alimenti che possono essere pro-infiammatori e quindi vanificano l'assorbimento dei nutrimenti che ci permettono poi di raggiungere uno stato di benessere ma soprattutto non ci fa focalizzare soltanto sulla problematica che il soggetto ci pone all'attenzione perché magari da me possono venire molte persone che hanno problemi di peso o inerenti a delle intolleranze o a delle allergie o dei problemi comunque gastrici mi permette di non focalizzarmi come vedremo adesso in degli esempi soltanto sulla problematica che il paziente ci porta ma di andare a valorizzare quel punto di infiammazione di partenza e allo stesso tempo ci permette anche di selezionare al meglio un'integrazione, una nutraceutica personalizzata e non soltanto basata su una generalizzazione del problema. Arrivando comunque agli esempi vediamo che questo è il report di un paziente di 38 anni nel quale il sistema, il risultato del test mi va ad indicare che ha un'alterazione del sistema gastrointestinale dove nella panoramica delle priorità vediamo che gli alimenti non sono così determinanti la mia valutazione è che l'alimentazione è la base sul quale costruire il miglioramento ma da sola se non vado a considerare che ha una carenza di minerali il selenio, il ramo, il boro e il molibdeno non riuscirò a far sì che quella modifica nutrizionale possa essere realmente benefica a un miglioramento del sistema gastrointestinale e soprattutto se non terrò conto che nella parte intestinale per la resistenza c'è un'elevata magari proliferazione batterica e quindi se non vado a selezionare correttamente un protocollo nutraceutico che mi vada comunque a sostenere la qualità del microbiota sicuramente quell'alimentazione da sola non riuscirà ad essere comunque veicolata correttamente andrò sicuramente comunque a togliere, a consigliare di eliminare o di limitare questi alimenti che possono aumentare l'infiammazione e a sostenere anche l'integrazione partendo per esempio dal selenio perché il risultato del test mi va ad indicare che c'è una carenza di selenio per il quale è bene intanto integrarla poi posso consigliare il rimedio per l'acidità, per la disbiosi, per la stipsi per qualsiasi altra problematica però alla base è bene comunque tener conto anche a livello nutrizionale di questa sensibilità come per la parte comunque aminoacidica come specificava adesso Carlos il test ci fornisce tutti gli indicatori fondamentali per poter approcciare a un protocollo nutrizionale personalizzato e ci aiuta anche a capire queste carenze in che parti alimentari si trovano in modo tale da avere un'alimentazione più che varia stesso consiglio per lavorare nel miglioramento batterico dell'intestino quali sono gli alimenti che possiamo comunque preferire ovviamente selezionandolo in base alla persona c'è anche un'ulteriore tabella a riguardo di tutti i sali minerali e della parte aminoacidica che a quel paziente erano comunque carenti e necessari e guarda caso prima di fare il test nel colloquio funzionale che avevo avuto con questo ragazzo di 38 anni lui dichiarava proprio di avere comunque delle alterazioni gastrointestinali come ci ha comunicato poi il risultato del test dell'epigenetica confrontandomi con il suo medico di base e il gastroenterologo che lo stavano comunque seguendo e dai test ematici che sono stati fatti per specificare la situazione è venuto fuori che non aveva una sensibilità da Crohn e che quindi tutta la terapia farmacologica che stava seguendo era errata ma è andato comunque ad avere un'infiammazione da Nisakis e uno sconvolgimento batterico dell'intestino cosa che il test epigenetico avevano messo in evidenza ha risolto in questo modo una stanchezza cronica importante che lo portava a svegliarsi già al mattino non regolare a non dormire bene la notte e comunque anche il soggetto che se l'avesse visto non sembrava proprio essere nato sotto peso aveva sviluppato una problematica metabolica importante perché aveva anche 40 kg in più selezionando al meglio la nutrizione e affrontando la problematica che poteva non far rispondere correttamente un percorso di semplice dimagrimento abbiamo ottenuto un miglioramento sia fisiologico che nella perdita se valutiamo invece un altro caso una donna di 66 anni che dichiara di avere un transito intestinale irregolare perché è una stipsi prolungata nel tempo nessuna integrazione e nessun intervento alimentare le hanno portato un miglioramento si era ormai comunque rassegnata come se la sua condizione intestinale fosse quella di evacuare una o due volte comunque a settimana e di avere un disagio a livello addominale per uno spiccato gonfiore che l'ha portata anche a fare delle indagini di intolleranza senza avere poi un risolvimento della problematica ero curiosa a quel punto di andare a fare comunque il test epigenetico per vedere che cosa mi comunicava come mi poteva aiutare ad affrontare meglio la problematica di questa donna e vado a vedere che nelle sensibilità fisiologiche avevamo una sintesi proteica sensibile un sistema adrenergico non regolare un dismetabolismo degli zuccheri e un sistema muscoloscheletrico non efficiente tutte manifestazioni che mi portano poi ad incrociare la valutazione con gli indicatori principali da sorreggere con l'alimentazione dove vediamo che è prioritario avere un'attenzione agli acidi grassi alle vitamine, agli antiossidanti, ai minerali e agli aminoacidi tutte conseguenze che tendenzialmente ci insegnano essere conseguenza di un malassorbimento dell'intestino e ovviamente il paziente aveva già dichiarato di non essere regolare con l'intestino e quindi pur alimentandosi correttamente scegliendo un'alimentazione biologica facendo rotare gli alimenti mangiando prima la verdura cruda prima di iniziare comunque il pasto non aveva effettivamente un beneficio a livello integrativo abbiamo tenuto conto sempre con il suo medico curante delle eventuali integrazioni da fare a riguardo della vitamina E e della vitamina B12 che hanno migliorato già da sole la risposta dell'intestino il risultato per questa paziente qual è stato? che iniziando ad integrarsi nel giusto modo andando a strutturare un'alimentazione che sostenesse maggiormente quegli indicatori sensibili ha iniziato ad evacuare non tutti i giorni ma almeno a giorni alterni siamo andati ad indagare visto le varie incidenze fisiologiche una candida test e un disbiosi test cosa che non le era stato mai consigliato e fondamentalmente la candida intestinale era attiva quindi attuando un protocollo di sostegno con questa integrazione e specifica per la candida dopo i primi mesi la paziente ad oggi evacua tutti i giorni non ha più quel gonfiore addominale e non ha più quel disagio estetico che la portava a non riuscire a perdere quei 3-4 kg di peso in più che tendenzialmente sembrerebbero pochissime ma a volte per delle persone che hanno questo tipo di situazione risulta essere alquanto difficile la mia conclusione quindi nella mia piccola esperienza è che l'S Drive utilizzato in quest'ultimo anno mi ha fornito tante informazioni in più per personalizzare il percorso dal dimagrimento a un'alimentazione più funzionale e di poter collaborare meglio con le forme mediche presenti nella mia città al fine di migliorare lo stato di salute del paziente questa è l'ultima pagina conclusiva del test che ci dice è ora di prendere cura prendersi cura della propria salute per migliorare la qualità della propria vita ed è quello che auguro a tutti gli specialisti di fare nel miglior modo possibile grazie per l'attenzione grazie dottoressa il suo intervento è stato molto significativo proprio per vedere anche la responsabilità che hanno gli operatori della salute nel entrare nella salute e nell'equilibrio del paziente quindi una responsabilità anche terapeutica grazie tanto attraversate la sala e c'è tanto di là